La stiamo filmando, la stiamo filmando questa consegna, però filmala consegna Gio. No, personalmente tu per me, per i miei forse, filmamela verticale, per favore, per favore, scusi, per favore, stite. Ci dite quando possiamo partire? Penso a tre, due, uno. Ecco, sì, facciamo il terzo Rebus, il coro, quest'anno compie Yandel Signur, come si è visto, 33. E tre anni fa noi abbiamo prodotto questo DVD in collaborazione con la Vos de Locarno, è un DVD celebrativo e io volevo, a nome del coro, dirti grazie e consegnarti in una copia. Ma grazie mille, quindi io intanto la porti qua lo stesso. Ti porto la canna e guarda. E allora, dopo aver baciato, mani di... Grazie, che amore. Grazie.